In arrivo quasi 30 milioni di euro per l'assistenza domiciliare ad annunciarlo il presidente della regione Calabria Roberto Chiuto durante una conferenza stampa tenutasi in cittadella regionale a seguito della buona riuscita del conseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR. La regione Calabria, la sanità della Calabria avrà 29 milioni e 600 mila euro, quindi 29 milioni in più in quanto la Calabria è riuscita a conseguire gli obiettivi fissati dal PNRR per l'assistenza domiciliare. Era una cosa che nessuno si aspettava perché si partiva da un ritardo molto considerevole, non se lo aspettavano nemmeno i ministeri affiancanti. Abbiamo dimostrato invece che comunicando bene i flussi che in Calabria il governo della sanità sta producendo alcuni risultati che neanche i ministeri affiancanti si aspettavano. Io ho detto in modo molto chiaro che avremmo fatto insieme ovviamente a tutta la struttura commissariale, al dipartimento e alle aziende sanitarie un lavoro per valorizzare il lavoro che già i professionisti della regione Calabria avevano impostato, fatto e che probabilmente serviva un'azione di corretta impostazione delle attività al fine di far vedere anche in questo caso ai ministeri competenti quelli che erano i risultati che la regione Calabria aveva già come dei risultati acquisiti.